E' l'Italia delle piccole imprese. Non spegnete questa luce. Figlie di una politica abbracciata da tempo dalla Confartigianato Provinciale che non si limita alla tutela sindacale e che è volta ad accompagnare le imprese aiutandole a dotarsi degli strumenti oggi indispensabili per stare efficacemente sul mercato sono le tante iniziative che spesso qui documentiamo. Opportunità preziose per non perdere il passo in un mondo in continua trasformazione. Eccovene una nel campo della formazione presentata nei giorni scorsi. Si chiama Human Resource Management e riguarda strategie e strumenti per la gestione del personale nelle piccole imprese venete il nuovo progetto di formazione continua che nel Vicentino vede impegnati Confartigianato, Five e Will oltre a Università di Padova e Confartigianato, Marca Trevigiana. Ad ispirare i contenuti di questa offerta sono i dati di un'indagine sui bisogni delle imprese e sulle competenze, riferite soprattutto ai giovani che hanno completato gli studi di coloro che oggi entrano nel mercato del lavoro. Con questo progetto si intende quindi fornire alle imprese una cassetta degli attrezzi per gestire al meglio e rendere più efficienti tutti i processi aziendali legati al personale attraverso un'azione che mette insieme la formazione in aula e la consulenza in azienda. Confartigianato Vicenza è convinta che oggi in questo mercato del lavoro in profonda evoluzione debba assistere le imprese di minori dimensioni che sono la nostra base sociale in una nuova gestione delle risorse umane e dei dipendenti di queste. Piccole dimensioni significa non avere attrezzatura interna all'azienda per poter gestire tutta la complessità di un mercato del lavoro dalla ricerca alla gestione amministrativa, alla gestione della formazione connegata internamente. Confartigianato ha queste caratteristiche, queste capacità, queste competenze e quindi è il naturale assistente e consulente delle nostre imprese per ottenere questi risultati. Promossa dal Cesar, ente di formazione di Confartigianato Vicenza l'iniziativa ha ricevuto il finanziamento della regione, oltre 97.000 euro e prevede un articolato percorso che si svolgerà da luglio 2016 fino a luglio 2017. 47 sono le imprese partecipanti che saranno suddivise in gruppi per un totale di 500 ore di formazione e 200 di accompagnamento individuale e visita aziendale. Il tutto in forma gratuita. Noi stiamo offrendo alle imprese, soprattutto quelle di piccole e medie dimensioni che hanno più difficoltà a reperire sul mercato le risorse necessarie per poter effettuare all'interno delle loro aziende questo tipo di interventi. Nell'ambito della gestione stiamo parlando di attività che attengono alla gestione del personale in tutto quello che poi c'è dentro a questo tipo di funzione. Noi mettiamo a disposizione sia risorse con dei percorsi formativi che sono assolutamente gratuiti, sia per gli imprenditori ma anche per le figure apicali delle aziende. Il progetto lo prevede e su questo è molto tassativo. Ma anche attività di odite e di consulenza per affiancarli proprio in quelli che sono poi i tratti salienti del progetto e del percorso che riguardano la ricerca, la selezione del personale, la valutazione, la valorizzazione e tutto quello che riguarda poi i sistemi premianti all'interno dell'azienda. Quello che oggi viene chiamato il nuovo welfare aziendale. Sebbene tutti i tipi di azienda possano ricavare vantaggi dall'attenzione alla gestione del personale, si tratta comunque di processi culturali e organizzativi difficilmente standardizzabili che richiedono un alto grado di flessibilità e competenza. Per questo il percorso terrà in considerazione le differenze di approccio, per esempio tra un'azienda manifatturiera e una che eroga servizi o fra un'impresa artigianale e una più strutturata. Il Cesar è a disposizione di quanti volessero candidarsi a partecipare a prossime analoghe iniziative.